Troppo tempo sui telefonini e tablet, al via la nuova guida in rete con i ragazzi, rivolta a genitori, medici e insegnanti, è nata dalla collaborazione fra la Società Italiana di Pediatria, la Polizia Postale, Anci e Unicredit, per favorire un utilizzo più equilibrato della rete e degli strumenti virtuali. Internet e i social sono una risorsa, un'opportunità di apprendimento e socializzazione, ma costituiscono la prima forma di dipendenza del nuovo millennio. Un utilizzo spropositato dei dispositivi e una cattiva gestione della tecnologia provoca diverse patologie, dal bruciore agli occhi all'insonnia. Diversi sono poi fenomeni che si sviluppano sulle varie piattaforme, a cominciare dal cyberbullismo alla violazione dei dati personali, fino alla pedofilia. Il mondo 2.0 viene spesso sostituito alla realtà, ma troppe volte dietro lo schermo si nascondono scenari insidiosi. È la sfida dei nostri giorni. Viviamo un tempo veloce, un tempo dove la possibilità di riflettere è sempre più compressa e sempre più dobbiamo insegnare, imparare noi e insegnare ai ragazzi di quanto queste azioni, questi comportamenti invece di essere il frutto di una modalità immediata devono essere più ragionati, mutuando una bellissima canzone che ormai fa da colonna sonora di tutti gli appuntamenti di lotta alla mafia, prima di sparare pensa, prima di chattare, prima di mettere like pensa, perché quella modalità così semplice, così immediata, può avere conseguenze invece particolarmente negative. È importante che i ragazzi siano indirizzati ad un rapporto sano verso la rete, imparando a riflettere sui contenuti prima di condividerli, ripartendo dal dialogo e dall'ascolto con l'ambiente familiare e scolastico. Grazie a tutti.